le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di sabato 22 ottobre ariete cercate di non fare gli isterici di fronte ad una difficoltà sul lavoro prendetevi le vostre responsabilità in amore almeno apparite molto più tranquilli toro avete una luna magnifica al vostro fianco in aspetto con urano vi spinge ad essere risoluti sul lavoro in amore la fortuna vi aiuterà gemelli l'amore non andrebbe mai trascurato con marte nel vostro segno dovete essere pronti a tuffarvi in nuove avventure qualche grana sul lavoro cancro una giornata molto interessante la luna è dalla vostra parte rende piacevole l'atmosfera nella coppia sono favoriti anche i nuovi incontri leone il periodo è sempre molto positivo avete al vostro fianco persone valide che sanno aiutarvi quando andate in difficoltà quindi non dovete temere nulla vergine mercurio potrebbe assottigliare il vostro conto in banca ma nonostante tutto dovete essere generosi nei confronti delle persone che vi stanno al cuore vi lancia non perdete altro tempo sul lavoro ci sono tutte le condizioni per ottenere un successo quindi evitate discussioni sterili e concludete una trattativa scorpione la posizione difficile di saturno e urano vi crea parecchio stress e vi sembrerà di non avere le forze necessarie per affrontare tutti gli impegni professionali sagittario la posizione della luna vi mette a dura prova quindi appena potete pensate soprattutto a rilassarvi i rapporti sentimentali sembrano comunque appaganti capricorno ecco una giornata da sfruttare al massimo siete in ottima forma sul lavoro potete ottenere un'affermazione anche l'amore vi farà emozionare acquario mercurio vi rende affaristi formidabili mentre la luna provoca qualche discussione di troppo nelle coppie di lungo corso sono stimolanti invece nuovi incontri pesci la luna negativa non vi permette di trovare le giuste parole per descrivere i vostri sentimenti sarà bene evitare di esporsi troppo in amore e in famiglia e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina l'oroscopo di azus